buonasera a tutte buonasera a tutti puntata numero 146 di tintoria applauso conduzione stefano rapone come stai abbastanza bene tu sei bene abbastanza bene dice un po di acidità è quello che ci penso perché mangio qui al mandrione da una settimana ormai avvocato però lo sai che al mandrione si mangia di merda l'unica tradizione di famiglia che c'ho e nord vpn basta un clip non è grazie a tutti se siamo un po e grazie a tutti senso ulteriore induggi pietro sermo come torno a casa io vai o a sinistra e poi subito a destra e andando dritto sbuchi diciamo campagnano c'è tante persone che parlano così che non ti riconoscono io giocavo a tor di quinto il presidente del tor di quinto di sotto le torri e mi hanno preso per far medico in famiglia tor di quinto allora lino banfi non tirò mai in porta con un compagno piazzato meglio di lui è una cosa molto italiana quindi ricapitando bin laden un merito di una famiglia è una parabola biblica basta il cast di ponzatura ponzare mi faccio un caffè farla in cucina con delta plano con delle tette finte con la gazzetta dello sport per terra con un piede su una sedia e con una sul un lavello ponzare ho fatto il pallottolone e coso basta il cast di ponzatura a chiusi mi bevo un caffè hai scoppiata la bomba non c'è la carta igienica nonostante questa difficoltà ho sacrificato una camicia poi ti scendo a torso nudo e ho comprato la mia prima e unica maglietta in love roma peraltro fantastica celeste però attenzione se dopo questa birra dici sai che c'è è ora di passare al gin tonic non c'è problema ma che cazzo vuoi nonostante questa difficoltà ricordatevi questo un altro applauso per favore pietro sermonti che cazzolo stefano rapone strato enrico leonardo stefano e otrano e lo vittorio tavio e i tuoi senni in pardo leonico enrico rapone franco ponzate forte questa lo devo tagliare non lo vittorio